Dopo i greci dell'Olimpiacos nei play-off di tedeschi del Bayer Leverkusen negli ottavi, l'Atalanta si appresta a scendere in campo per i quarti di finale di UEFA Europa League. Sul cammino dei Nerazzurri un'altra squadra tedesca, il Lipsia. Per i Nerazzurri ad oggi sono state quattro vittorie su quattro partite, un ruolino di marcia a dir poco invidiabile, ma ora c'è l'ostacolo Lipsia da superare, squadra che al momento occupa la quarta posizione in classifica con un ritardo di tre punti proprio sul Bayer Leverkusen. Sì, sì, però ogni passo che vai avanti è più difficile, allora niente, noi stiamo contenti di essere dove siamo adesso, speriamo di fare una buona partita e poter passare il turno in Europa, in un campionato ancora continuare a sommare da tre punti, e lavorare, però preferisco pensare che dobbiamo andare partita a partita, perché così ti aiuta. Prima dell'Ipsia, alla ripresa del campionato, i Nerazzurri ospiteranno il Napoli al Ghevis Stadium, una sfida importante per quanto riguarda le zone alte della classifica. Sì, affrontiamo una buona squadra, e noi speriamo fare una buona partita e sicuramente se questa partita possiamo portare avanti i punti, penso che sarà una grande spinta per continuare e per ci pensare nel quarto posto. Grazie a tutti.